Signore e signori salve a tutti, oggi andremo a vedere come trasformare il nostro Windows 7 in gnome. Non sapete che cosa è uno gnome? E' una cosa così, più o meno, è gnome, è gnome. Allora, non vi rimane altro che scendere sotto qui in descrizione e troverete dei link a 32 bit o 64 bit online e offline. Una volta che avete scaricato il vostro file che vi serve, io scarico l'offline, clicchiamoci due volte e avviamo il processo di installazione. Una volta che è partito il processo di installazione, premiamo avanti, avanti, una volta che vuoi, vuoi che ti rompiamo il cazzo con altri software? No, grazie, ecco qui. Una volta fatto questo, cosa vuoi installare? Tutu Kukuzaru, come si dice da noi, dal profondo nord. Va bene? Una volta che abbiamo finito, una volta che è finito il processo di installazione, ci chiederà di riavviare il computer. Riavviate il computer e vediamo l'effetto. Ed eccoci qua, nello gnome, quello sempre, va, siamo nella pancia dello gnome, in poca parola, dello gnomo, ecco. Allora, come state vedendo, prima e così tutto ci appare un piccolo menu dove noi possiamo, diciamo, personalizzare qualche... Abbiamo anche la nostra, apriamo parentesi, tra virgolette, doc bar qui a sinistra. Abbiamo le icone, logicamente, che sono cambiate rispetto ad altri programmi, logicamente, alcuni programmi hanno questa come icone e ce la sono questa, logicamente. Abbiamo anche, sono stati cambiati anche i nostri font, caratteri e dimensioni di questi caratteri. Andiamo in pannello di controllo, vediamo, in pannello di controllo sono cambiate anche proprio l'impostazione della visualizzazione. Andiamo in, nel nostro computer, risorse del computer, eccolo qua. Andiamo in pannello di controllo, alcune icone, in questo caso, la maggior parte delle icone sono state cambiate totalmente. In questo caso è un pacchetto, vediamo se ci sono... ecco qui, c'è anche le animazioni sulla nostra, diciamo, doc bar. Come state vedendo, ha cambiato molto profondamente il nostro sistema operativo, logicamente solo la parte grafica. Signori, io ho finito. Vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato. Se volete domandarmi qualche cosa, qui c'è la descrizione con i link, poi ci sono i commenti e pedifico vari.